Per parlare di Roma, città del Natale d'Europa, la carmessa natalizia multiculturale iniziata il 22 dicembre scorso. Ad esibirsi, lo vedete, nelle immagini il foro di Seven Years Gospel, oltre 30 persone, con un repertorio dall'antico al moderno e sperimentale. Scopo dell'iniziativa, ha sottolineato Federico Rocca, delegato del sindaco ai rapporti con l'Unione Europea e i cittadini neocomunitari, regalare a chi purtroppo non ha potuto trascorrere le feste nella propria casa un momento di gioia e serenità, portando un po' di spirito natalizio nei reparti ospedalieri. Ringraziamenti al Comune di Roma sono arrivati anche da Aldo Morrone, direttore dell'azienda ospedaliera San Camillo Corlanini. Ai piccoli pazienti sono stati distribuiti i tradizionali dolcetti della Befana.